Vi aspettiamo il 21 settembre per la prima edizione degli Oscar Italia del Musical con Sena Rossi, Giampino Ingrassia. Come siamo seri, come siamo rock. Rock'n'roll. Ci sarà tutto il musical italiano. Una festa del musical italiano. Tante sorprese. Ospiti, spettacolo, presente Giulia Cristian De Sica con Gino Landi, Rosanna Casale e Vercena. Tanta roba. Venite tutti vi aspettiamo. Rock'n'roll.